Sopra! No! Adesso è al porto! Ok, adesso registra! Ok, che la porti dietro? Sì! Ok, vai! Quando registri vi anche quello che registri che metterla dentro! Ecco, sto registrando la nave di Ianas! È la nave che ci porterà in Sardegna! Ecco, è la nave che ci porta in Sardegna! Vedi Federico, che nave grossa! La vedi come grossa! Guarda quanto è grande! È enorme! 210 metri! 2500 persone! C'è pure un campo di calcio!